Ciao a tutti, sono Marco e lui è Giulio, a Rimicione, e siamo qui per dirvi che dal 22 al 24 settembre saremo alla Strada del Paesaggio, il Festival del Fumetto a Cosenza. Quindi, se siete nei palaggi, oppure se non lo siete, verrete comunque, ci trovate lì a deposizione per sketch, per dedica o anche soltanto per incontrarci, fare due chiacchiere, e inoltre io in quei giorni realizzerò un terreno a Residenza d'Arte, dove appunto realizzerò un'opera dal vivo in estemporanea. Quindi, mi raccomando, ricordatevi dal 22 al 24 settembre l'Estrada del Paesaggio a Cosenza. Un saluto a tutti, ma soprattutto un saluto alla bellissima Cosenza. Ciao, ciao!